E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki e io sono Steffi e questo oggi chiamo Scrap Mechanic! E siamo tornati qui su Scrap, questa volta con un episodio speciale in compagnia di... Luca! Ciao Luca! Ciao Lucato! Ciao! Quest'oggi proviamo un sacco di costruzioni pazze insieme a Luca, quindi preparatevi! Se ve lo state chiedendo, no! Espy non c'è! E se vi chiedete il motivo, è semplice! Puzza! Non so perché è semplice, però puzza, quindi non la volevamo e quindi abbiamo solo Luca. No, non è vero, era impegnato, però volevamo farlo in compagnia e quindi ci siamo presi Luca e so che sarete super felici. Comunque, partiamo e vediamo un pochettino di cose da provare. Quest'oggi siamo solo in tre, però mi è venuta un'idea. Al posto di Espy possiamo mettere lui. Guardate un po', secondo me è perfetto. Siete d'accordo? Sì, assolutamente. Ciao Espy, ciao Espy. Ti ricorderemo per sempre Espy. Allora, 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 allora. Cosa facciamo oggi? Proviamo un bel po' di veicoli e un bel po' di cose. Le ho selezionate io e c'è di tutto di più. Ho fatto proprio la lista della spesa incredibile, c'è di tutto. Quindi ditemi un pochettino cosa vorreste vedere per iniziare, un veicolo, una costruzione, un qualcosa di folle, ditemi voi. Dai, facciamo scegliere Luca che è l'ospite speciale di oggi. Ok, mi piace. Quindi vai Luca. Cosa vorresti Luca? Facciamo un po' una casa, una costruzione, un qualcosa di grosso. Allora, vediamo che cosa ho. Ah, ne ho uno molto divertente. Vai, vai, proviamo questo. Non so se funziona e non so niente quanto è grande. Secondo me ci farà la gare tantissimo, ve lo dico già. Allontanati Luca che qui. Sì, vi conviene allontanarvi. Oh, scatto. Allora, siete pronti? Attenti. Ok. Che cos'è? Allora, praticamente è un campo di mini golf e dovremmo poter giocare. No, davvero? Sì, non so come si gioca, non l'ho testato, però dovrebbe funzionare. Siete pronti a divertirvi? Che cos'è? Fa abbastanza schifo, vero? È uno scarafaggio. È uno scarafaggio gigante. È un centopiede, è un centopiede. Mille piedi. Ah, mille. Non è cento? Si chiamano mille piedi, no? Mille piedi, sì. Scusa, Fede. Allora, lo sto accendendo. Guardate come si stanno accendendo tutte le luci e sono partito. Ma a me ma te ha ansia. Ciao, Fede. Schifo. Allora, poi ho acceso la cosa numero due e non so a che cosa equivale. Poi con il tre cosa stiamo facendo? Non ne ho la più pallida idea. Qualcuno nota qualcosa? Vero che è tutto strano? È strano. Ti stai incastrando negli alberi. Luca, ti dobbiamo far provare questo. È uno skateboard. È la cosa più bella che noi abbiamo scoperto per ora in questo gioco. Allora, salici sopra. Ok. E inizia a provare i vari tasti. Ok. Dovresti scoprire da solo che cosa può fare questo skateboard. È abbastanza pazzo. È l'unico inizio. Eccolo, eccolo. Tieni l'ho premuto quel tasto. Oh, oh. Ok. Ma dai, mi sta robando pure la notte in atta di parcheggiare negli aerei. Cioè, negli aerei. Vabbè, negli alberi. Sono fare i trick. Sì, esatto. Infatti si chiama trick skateboard. È esattamente il suo nome. Puoi fare cose assurde, però è super difficile. Ok. Ok, vai. Oh. Vai. Più o meno. Fare di bo. Guarda. Oh. Bellissimo. Questo era bellissimo. Disgraziata. Non provare a darmi i colpi che t'ammazzo. Ti odio. Guarda. Oh, attento. Ho rischiato la mia vita. Mentre Luca continua a provare quello. Ferre, ti faccio vedere una cosa fantastica. Ok. Sei pronta? Vai. Allora, vediamo. Vuoi andare nel cielo o vuoi stare a terra, Ferre? Nel cielo, dai. Perché ho due cose fantastiche. Proviamo a cambiare nel cielo, dai. Sei sicura? Sì, sì, sì. Ok. Hai già capito, Ferre? Oh, mamma mia. Cioè, ma partiamo davvero? Credo di sì, Ferre. Voglio solito anche io. Sei sicura di... Luca? Ci sono due posti. Io ho paura. Ve lo dico. Ok, una qua. Allora, andate voi. Io rimango fuori e vi osservo. Quindi, siediti pure, Luca. Vi chiudo la porta. Non so chi ha il comando di tutto questo. Allora, sto premendo tutti i tasti, ok? Ok, stai muovendo i cosi a lato. Devi fare... Ah, aspetta, 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 aspetta. Smetti, non... Aspetti, smetti, smetti, smetti. Ok, ok. Ti manca quello che sta in basso, quindi per volare. Non è quello. Ah, questi sono tutti a lato, aspetta. Ok, dovrebbe essere da solo. L'hai trovato? No. Sì. Oh, ho pensato il turbo. Siediti, Luca. Non ci... Ero i dei tasti sotto. Con uno inizio a decollare e con l'altro metto il turbo. Ma stiamo volando davvero? Sì, sì. Stiamo partiti. Siete diventati grandi contro una stellina ormai. Siete scomparsi nel cielo. Come si scende, Luca? Credo che devi... Ah, quello non lo so. ...ridisattiva il tasto. Allora, aspetta. Questo cosa fa? Il turbo. Oddio. C'è la scala, Fede. C'è la scala? No, abbiamo iniziato a cadere malissimo. Ma cosa sta succedendo? State precipitando. Siamo usciti fuori dal razzo. Ma vedo due esseri che cadono. Siete voi? No. No. Ecco, è arrivato Luca. E anche Fede. Adesso è arrivato qui. È arrivato qui. Toglietti. Praticamente, com'è stacchi i propulsori? Ascoltami. Ok. Inizia a cadere. Non ti tiene più neanche il sedile, capite? Ah, no. Guardate la scala. Si apre così, compare, e si può andare di sopra. Però è abbastanza stretto e complicato. Quindi, ok, mi devo abbassare. Qua c'è un altro bottone. No, è riuscita la scala. No, ma è ovvio. Scusate, aspettate. Riproviamoci. Allora, mi sono incastrato. Uno alla volta. Vai tu, Luca, vai tu. È difficilissimo. Non è proprio comodissimo. Potevano farle un po' più comode, eh. Direi. Diciamolo. Direi. Ok, arrivo anche io. Ok. Mi abbasso. Cosa c'è sopra? Il bagno. Ma davvero? Sì. Arri, arri. Cioè, ma è così complicato andare in bagno. Quando ti scappa in modo urgente è abbastanza grave la situazione. No, è tutto vero. No, no. Che è difficilissimo salire. Non farmi cadere. Non c'è abbastanza spazio per tutti e tre, Fede. Ce l'ha fatto. Vai di sotto. No, ce l'ho fatto. Ce l'ho fatto, ecco qua. Mi siedo qua. Ho trovato il mio posto. Ma volete stare lì? Uno sta seduto in bagno mentre partiamo. Ok, vai. Mi siedo qua e vediamo se almeno la tazza del bagno riesce a tenermi in seduta. Luca, dovresti avere tu i comandi. Ah, vai. Controllo io. Te li ricordi? Perché io non me li ricordo. I due tasti sotto. Perfetto. Prima e secondo. Prima e secondo. Ok. Vai, Luca. Questo dovrebbe... Ok. Perfetto. Via. Stiamo partendo? Sì. Vai, vai. Mamma mia, che ansia. Cioè, poi... Fammi sentire il rumore. Un rumore assurdo. Attento, Luca. Non andare storto. Ci stiamo incinando. No, 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 no. Tutto sotto controllo. Ok. Io ci sono, eh. Io ci sono. Ok. Ancora più in alto, ancora più in alto e poi ci buttiamo. Mi stanno venendo le vertigini, non so bene perché. Ma perché? Sì, ti giuro. Appena si sbilancia un po', non capisco più nulla. Ah, meno male siamo di nuovo dritti. No, no, no. Altro che dritti. Drittissimi. Vai. Luca di là. Oh! Oh! Ma cosa è successo? Che succede? Non ho idea. Ma stavo per volare o stavo cadendo? Non lo so, non capisco più nulla. Lui è tutto previsto. No! Sono caduto! Ma come? Sto precipitando! E anche voi! Io no. No, no, noi non abbiamo precipitato. Io no. È caduto solo tu, Steph. Se Luca sta facendo un atterraggio perfetto. Non ci credo. Lei, Luca, non ci credo. Ma davvero ce la fa? Guarda, guarda. Parcheggiati. Io sono ancora seduta in bagno, non mi è successo niente. Grazie, grazie a tutti. Come ha fatto? Ha imparato a guidare un razzo in due minuti, Fede. L'ho provato prima io e ci siamo spiantati. Ma com'è possibile? Questo è bellissimo. Guardatelo da lontano. È un pulvazur! È un pulvazur! Che brutto di patica. Sei un po' cattivo. Credo che sia abbastanza difficile da fare, poverettino. È un misto tra felice e arrabbiato. Guardalo. Un po' come me. La coda si apre. Come si apre? Si può guidare. No, vabbè. Aspetta che arrivo. Guardate. Aspetta. Ciao. Quanto scatto. Allora. Prima di tutto era venusaur e non pulvazur e ci tengo a precisarlo perché... E ci siamo coppiti. Poveretto. Seconda cosa. Non è un venusaur qualsiasi. Oltre a poterlo guidare, ha tante cose particolari. Premi due, Fere. Ok. Vado. Ripremilo. Guarda. Ma stai scherzando? Cioè, alza e abbasso la testa. Ciao, Fere. Sto molto bene, grazie. Tutto bene. Benissimo. E io un po' di caldo, sai com'è? Eh, c'è caldo. Questa separatura. Hai ragione, hai ragione. Ci vorrebbe un bello squirtle. Guarda. Lo vedi cosa fa? No, non lo vedo. Ripremilo. Guarda. Il fiume. Il soffragilio. Per passare da buono a cattivo, vedi? Allora. Così arrabbiato. La faccio a cattiva. Ok, vai, premilo. Apre e chiude la bocca. Oh, mamma mia. Il cinque è speciale. Ma è veramente immovibile, bellissimo. Premi cinque e aspetta qualche secondo. L'hai premuto? Sto muovendo tante roba. Che succede? Oh, mamma mia. Perché vengo teletrasportata su? Oh. Sì. No. Ma stiamo scherzando. Cioè, adesso che faccio? Ti puoi sparare? Adesso se premi sei, ti puoi muovere. Aspetta. Guarda. No, guardami. No, vabbè. Guardami in cima. Allora. Fa laggare tantissimo. Ma è spettacolare. Questo è un capolavoro assoluto. Questa è la costruzione più bella che abbiamo mai provato. No, per me lo skateboard... Lo skate è questa. È proprio nel cuore. Tutti e due. Ma perché il divertimento. Questa a livello di ingegno però va ben oltre. Sì, è vero. È bellissima. Fere? No. Fere? No. Luca, devi sapere che Fere odia gli squali. No. Ma sono così carini. Tantissimo. No, non lo so. Sono i nemici del mondo. Fere, quella roccia non ti può difendere da uno squalo così gigantesco. Io lo distrugga adesso. No, Fere, non puoi. Gli spacco il muso. È un cappolavoro. Gli spacco il muso. Ma apre la bocca. Dimmi che non apre la bocca. Allora, forse sì. Dimmi che non apre la bocca. Prima di tutto entriamoci. Ok. Dovrebbe essere un dirigibile, teoricamente. Ma è un dirigibile? Sì, mi sa che è uno squalo dirigibile. Allora, io adesso provo a guidarlo e vi dico. Dopo lo yacht volante lo squalo dirigibile. Fere, puoi andare un attimo davanti allo squalo? No, io sono già qui dietro e non mi muovo. No, no, Fere, ti prego, dai. Dai, perché? Hai detto che li volevi spaccare nel muso. Guardalo bene. Sì, io sto guardando. Che brutta. Ma vi vedo? No, non vi vedo. No, non credo, non credo. Aspetta, entro nella bocca. Vai, Fere. Voglio vedere dove... Abbassati. Non fa? No, gli spacco. No, Fere, lasciami in pace. Allora, poi con due cosa succede? Fa il verso. Fa il verso e muove pure la coda. Sta muovendo anche la coda. È inquietante. Poi con tre ho chiuso. Fere, 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 vieni, 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 vieni. Mi sa che con quattro si parte, quindi inizia a venire. Ok, arrivo. Perché ho il dubbio. Ok, chiudo la porta. Vado? Vai. Aspetta che mi stiedo. No! Posso muovere la testa? Aspetta, non riesco a stendermi. Cioè. No. È qui. È difficilissimo da guidare. Guarda, eh. Ok. Vedi la testa? No, vabbè, muovi anche le pinne. Guardalo. È fantastico. È bellissimo questa. Si aggiunge nella lista dei veicoli strabelli, eh. Però è molto difficile da controllare. È notato che stai sbandando un sacco. Chi la vuole provare? Io. Io. Sicura, fere? Sì. Allora, vai, sediti. Ok. Ma è... È un batter, cioè. Fere, accendila. Io? Sì, sì, sì. Ma non ci arrivo. No? Non arrivi al tasto? No, non ci arriva il tasto. Allora, ma non c'hai da premere come uno? No, non ho nulla. Ok, te l'acceda. Che avete fatto? Adesso. Ma dovrebbe partire, no? Pensavo... Ma io pensavo che partisse. Fere! Staccati da quel bagno. Io mi butto. Siete pronti? Mi sa che tu dovevi lasciare la presa nel momento giusto, Fere. Sei pronta? Sì. Vai. Non ce la fa. No, fai andare. Fere! Fere! No. Qualcuno... No. È un serpente. Bisogna bloccarla. La chiappo! La chiappo! È una vita propria ormai. Ok, l'ho presa. Direi che ci possiamo fermare così per questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. Allora, fateci sapere con sondaggio e con commenti. Se volete vedere altri video di Scrappe Meccaniche in compagnia di Luca. Noi ci siamo divertiti un sacco. È il nostro pilota per i razzi. Il che è molto importante. Con tutto dire. Quindi speriamo che vi sia piaciuto il video. Abbiamo provato davvero tante costruzioni super belle. E non so quante ancora ne ho. I consolini un po' le velevano mentre ne scrollavo. Ce ne sono davvero ancora tantissime, stra belle. Quindi ancora tanti episodi di Scrappe da provare così. Però farete la butta in questo modo. Ok. E se il prossimo video fosse una sfida tra me, te e Luca. Nel costruire cose proposte dai consolini. Bellissimo. Luca ci stai? Luca ci stai? A posto. Allora facciamo così. Commenti, proponeteci cose da fare. Vogliamo sia cose difficili sia cose facili. Perché così proviamo entrambe le cose. E vediamo un pochettino chi sarà il più bravo a costruire. Bene che se vi è riuscito, se vi è riuscito a lasciare un like. E se la prima volta che vedete il nostro video, potete continuare al link e iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.